Salve, io sono Clorinda, volevo porti delle domande in merito alla mala sanità e a quanto riguarda lo spreco della pubblica amministrazione, se è possibile fare qualcosa per noi. Grazie. Clorinda mi dà la possibilità di affrontare i due temi più significativi del nostro programma, sanità e pubblica amministrazione. In maniera, cercando di essere il più sintetici possibili, la sanità vale l'80% del nostro bilancio regionale, malgrado un'incidenza così importante sui costi.